Tutto in questo momento ragazzi e ragazze besti di YouTube Italia, io sono Davide Giovanni e oggi siamo qui in un fantastico video della nostra amatissima survival. Per l'esattezza visto che qualche giorno fa è uscito la 1.19.4, quindi una versione che andrà a modificare i cavalli, che va a modificare i cavalli perché è già uscita, oggi andiamo a fare qualcosa che c'entra ovviamente con i cavalli come avete letto da titolo. In poche parole quello che cambia per i cavalli è che adesso saranno più facili da bridare. Difatti se prima bridando due cavalli il cavallo nascitura avrebbe avuto una via di mezzo tra le statistiche dei due genitori, adesso prenderà il meglio da entrambi. E quindi quale situazione migliore per iniziare finalmente a fare una cosa che volevo fare da tantissimo per un bel maneggio con i cavalli. E visto che ci siamo vi ricordo anche di passare dal mio canale YouTube secondario Davide che gioca, ovviamente trovate il link qua sotto in descrizione e nel primo commento pinnato in alto. Difatti lì farò uscire questo mercoledì un video in cui vi faccio vedere tutta quanta la mia postazione. Una postazione veramente interessante, ma l'avete chiesto veramente per moltissimo tempo e alla fine ho deciso proprio di far uscire quel video. Attivate tutte le notifiche possibili e immaginabili, iscrivetevi a tutti i canali possibili e immaginabili, iscrivete qua sotto nei commenti le vostre migliori idee e direi di iniziare proprio subito con il nostro fantastico video. Voglio anche, prima di iniziare il video di oggi, seguire un consiglio di uno di voi. Per l'esattezza sto parlando di Zerk. Difatti lo stesso Zerk mi ha consigliato di aggiungere delle vines a questa struttura. È un'idea che mi sembra oggettivamente intelligente, però effettivamente non so se sia fattibile. Non è proprio facilissimo mettere delle vines qua, poi le vines iniziano ad acchiappare dappertutto. È un casino. Cerchiamo di metterla in luoghi in cui non può spreddare più di un tot. È un peccato, in realtà non è che si possa fare più di tanto. Però mettiamole così con la consapevolezza che spredderanno ovunque e che dovremo ritornare in futuro per sistemare e mettere tutto a posto. Quello che facciamo oggi, allora, andremo a fare il nostro maniero personale. Avete capito bene, voglio fare questa sorta di allevamento di cavalli. Ovviamente avrà la sua stalla, ovviamente avrà i suoi puledri. Perché voglio fare questo? Perché effettivamente è una cosa che non ho mai fatto altrove e voglio farla, perché secondo me può essere interessante. Ma prima di tutto dobbiamo decidere dove posizionare il nostro maniero. Qui abbiamo diverse build, questa zona è veramente molto molto occupata e decorata. Però abbiamo ancora un piccolo spazio lì, che però non so se usare per questa cosa, perché qua ci vorrei mettere un percorso che porta alla spiaggia da questo lato, che porta da questo lato alle saline che farò qui, alla farm di streghe che prima o poi costruirò qui e a quello che poi sarà il complesso della ex locktech che sarà qua. Quindi capite bene che posizionare una struttura qui in mezzo è un po' un casino. Però non è che ci siano molti altri spazi. C'è un po' di spazio qui davanti, ma anche qui dubito di riuscire a mettere qualcosa, perché c'è la montagna. Volendo potremmo mandare a fare in culo la forestale e costruirlo qui. Però qua abbiamo un lago qua, qua abbiamo un pezzo di fiume e un po' un casino. E poi davanti alle fabbriche così non ha veramente molto senso, fabbrica di legno e fabbriche di fango e terra. Per cui non è che sia veramente semplicissimo trovare un luogo in cui fare il nostro maniero. Più guardo questo posto e più mi rendo conto quanto sia pieno e non ci sia in realtà spazio per fare altro. Sono 15 minuti abbondanti che sto cercando un posto per mettere sta roba, sto maniero. Però effettivamente non trovo nessun luogo adatto. Voi potreste dire, ehi guarda che c'è questo luogo che è assolutamente adatto. Sì, ma in teoria qua ci andrebbero le mucche. So che adesso non ce ne sono, perché le ho ammazzate tutte quante. Però prima o poi ci ritornano lì dentro. Il luogo che sto pensando è proprio questo. Perché inizialmente questo dovrebbe essere il luogo in cui mettere tutti i semini extra. Perché mi aveva ripromesso di non buttare via i semini di grano. E per qualche malata e oscura ragione di volerli conservare tutti quanti. Infatti come vedete ci sono parecchie casse piene. Col tempo questa cosa non l'ho più fatta. E non solo non l'ho più fatta. Ma mi sono anche ripromesso di andare a modificare quest'area. Andando a mettere l'entrata da un'altra parte. Per trasformare questo posto in una zona unicamente per Weapon Master, Armor Master e Weapon Smith. Soltanto per loro. Quindi mettere i Farmer da un'altra parte, mettere i Librai da un'altra parte, eccetera eccetera. Per fare questa cosa volevo anche cambiare l'entrata. Quindi modificarlo in toto. Ed effettivamente una prima giusta, intelligente e utile modifica che potremmo andare a fare. Sarebbe proprio andare a riqualificare la parte soprassante di questa struttura. Perché sì cambiare l'entrata sarà un bordello micidiale. Perché effettivamente è un po' un casino. Essendo che ci sono villager su tre lati. Ed effettivamente l'unica entrata possibile è questa qua. Quindi io direi di iniziare a trasformare questa parte qua nella nostra stalla. Anche andandola ad aumentare di dimensione, andandola ad ingrandire. Tanto a noi i permessi del geometra non servono. Quindi buona pace. La prima cosa che sicuramente dobbiamo capire è dove andare a posizionare la nostra struttura. Adesso bisogna dire che in realtà non abbiamo troppi problemi a livello d'altezza. Perché di fatti spostando la nostra porta d'ingresso davanti. Andremo ad abbassare tutto quanto il livello interno della struttura di un blocco. In questa maniera qui. Quindi dobbiamo anche tenere di conto di questa cosa. Per cui all'interno sarà tutto più basso rispetto all'esterno. Anche rispetto a questa sezione qua. Ecco una cosa di questo genere mi sembra abbastanza ok. Perché comunque da un bel po' di spazio extra all'interno. Non è troppo ingombrante. Si nota perché comunque è abbastanza grande. Sì potrebbe anche andarmi bene così. Quello che mi dispiace è che verrà coperta questa sezione in diagonale. E un po' mi dispiace perché era carina la peculiarità di questa struttura. Un'altra cosa che peraltro voglio fare è il tetto fatto in questa maniera qui. Asterisce colorate. Perché boh è una cosa che non ho mai fatto. Secondo me sarebbe carino provare una volta a vedere come viene. Poi al massimo ci vuole nulla a smontarlo e rifarlo. Ma secondo me è abbastanza ok. Fate conto che le pareti molto probabilmente saranno fatte in mattoni e granito. In muoretti. E probabilmente ci saranno poi anche le fence in mezzo. Ma principalmente saranno fatte in questa maniera. Questo per massimizzare lo spazio che riusciamo ad ottenere da questa struttura. In modo da non dover costruire un blocco più indietro. Avere comunque 1, 2, 3 e 4 blocchi di spazio extra. L'unica cosa che un pochino mi dispiace di questa struttura. È che si noterà poco il fatto che questa sezione qua è stata messa dopo. Questo perché mi piace molto quando vado a modificare delle strutture. Che si veda e si distingua un prima e un dopo. Quindi si noti che questi pezzi sono stati messi dopo. Di fatti hanno uno stile diverso e via così. In questo caso però avendo una struttura relativamente semplice. E andando a utilizzare gli stessi materiali. Si noterà poco la differenza. Ma effettivamente nulla mi vieta di andare a sostituire questi blocchi qua. Con magari dei muretti di pietra. Però io qualche elemento che vada a riprendere il design e lo stile di quest'area. Ce lo voglio mettere. Ok che in generale è abbastanza coordinato colorezzo dal punto di vista stilistico. Però qualcosa in più ce lo voglio mettere. Quale qualcosa in più molto probabilmente per mia immensa sfortuna. Sarà proprio il legno di mangrovia. Visto che è uno degli elementi caratteristici di quell'area. E ce lo voglio mettere. Anche se sono comunque delle idee. Probabilmente già lo saprete. Che il modo più semplice per risolvere queste situazioni. Sarebbe dare come già succede in molte mod. Al player uno strumento in grado di funzionare come un debug stick. Ovviamente funzionare come un debug stick soltanto con scale, muretti, fence eccetera. In modo da permetterti di modificare la forma e l'aspetto di fence, scale, muretti eccetera. Ora questa tettoia qui dobbiamo farla partire da qui. Fare tutto quanto il perimetro. E fermarci poco prima del laghetto. Quindi probabilmente ci fermeremo qui. E' un design strano così a strisce per il tetto venendo atto. Però è fico. A me piace. Anche perché mescolandola così con la dark oak dà questa sensazione che il legno sia molto più scuro. Quello di mangrovia di quanto in realtà non sia. Vediamo se riusciamo a infilarci qualche blocco di giungla così a caso. Adesso probabilmente bisognerà aspettare che questo cacao cresca. Perché poi il cacao è scuro. Un colore molto scuro che si avvicina di nuovo al legno di quercia. Scura. Però non lo so. Così a prima vista non mi fa impazzire. Perché sembra marcio. Però ci sta. Siamo nella palude. Siamo in una zona un po' povera. Meno ricca sicuramente del boulevardier. Ci sta che un po' di legno sia marcito. Non lo so. Scrivetelo sotto nei commenti. Questi sono di quei casi in cui sono piuttosto indeciso. Ecco. Una cosa che voglio fare adesso è provare a mettere il beacon. Ma è evidente che sotto la stalla non ci sia lo spazio per farlo. Quindi mi sa che dovrò arrangiarmi a metterlo in un punto completamente casuale. Ecco. Non ci avevo pensato quando ho messo le scale qua. In teoria le scale dovrebbero essere così. Ma qui c'è questo spazio che veramente non sopporto. Siamo di nuovo tornati al discorso del debug stick come item per poter aggiustare queste situazioni. Visto che tanto non mi piace neanche visto da dentro così. Penso che andrò a rimuovere tutte queste scale che ho posizionato. E le sostituirò con dei blocchi interi. Come ho fatto anche per queste zone qui in basso. Ho terminato questa zona qua tutta scavata tutta coperta e tutta segnata. Adesso quello che devo fare è liberarla da queste sezioni e andare a mettere i mattoni qui dove mancano. Oltre a fare anche l'apertura. Quindi fondamentalmente farò l'apertura all'interno del nostro granaio. Questi mattoni che andrò a togliere li metterò qua. Peraltro ho notato soltanto adesso che in realtà l'entrata è decentrata. Qua c'è un blocco di spazio e qua ce ne sono due. Ma onestamente non mi dà fastidio così anzi. Almeno facciamo qualcosa di un pochino diverso dal solito. Che peraltro da dentro neanche si nota perché non ci sono i pali dentro. Quindi è assolutamente ok. Ho bisogno di farmi un bel po' di grano. Questo perché tutta la parte interna della sala sarà fatta con un pavimento misto, abete e balle di fieno. Quindi ho bisogno di veramente tanto grano. Per nostra fortuna è veramente tanto che non andiamo a fare questo campo. Per cui io direi di metterci qua e raccogliere i frutti del nostro sforzo. Dei nostri primissimi sforzi di building quando abbiamo costruito ormai una marea di tempo fa questo campo. Ho terminato anche gli interni. Ho fatto che mettere qualche pianta, qualche vaso così perché avevo giusto questi blocchi avanzati. Dentro l'ho fatto in questa maniera qui. Quindi l'ho decorato completamente. Zucche, queste qua sono luminose. Un po' di questa roba al centro. Perché lo sapete le netherworld mi piacciono molto. È il pavimento qui dove ci saranno quei cavalli fatto in questa maniera. Ho fatto piatto il tetto. Ho lasciato anche queste bacche di cacao. Sperando non diano fastidio quando si passa con i cavalli. Ma dubito di passare in questa maniera. Quello che bisogna fare adesso è trovare questi cavalli. Per altro intanto ho messo anche tutti quanti i semi che avevo all'interno di questo composter. E ho creato un bel po' di bombier che ci potrà tornare utile in futuro. Quasi sicuramente la andrò a mettere poi nella farm di legno. Allora fratelli, visto che non ho nessuna sella a casa, ho deciso di venire qua. Anzi, sicuramente le selle ce le ho ma non so dove. Fatto sta che non avendo trovato nessuna sella, ho deciso di venire alla farm di raid. Dove se ne trovano veramente molte in pochissimo tempo. E niente, alla fine avevo delle selle qua, addirittura delle armature. Fatto sta che comunque qualche sella l'ho presa anche alla farm. Alla fine avevo farmato là e poi sono tornato in qua. Direi di averne anche abbastanza in realtà per tutti i cavalli che andrò a prendere. Anche e soprattutto perché non è che ne andremo a fare tantissimi di cavalli. Pensavo di trovare dei cavalli qui e invece ho trovato un bel cazzo di nulla. Ok ragazzi, finalmente ho trovato due bei cavallini. Tra l'altro, visto che stavo finendo i razzetti e sono pure passato in magazzino, a prenderne un po' e soprattutto a prendere anche delle lead. Abbiamo ben due cavalli, fratelli miei. Almeno facciamo un pochino prima. Speriamo siano decenti perché altrimenti è veramente una tragedia. Questo qua sembra velocissimo, è un fulmine, guardate come va veloce. Ha una miseria di cuori, però è veloce. Lui anche pare piuttosto veloce, ragazzi. Purtroppo anche lui non ha tutti questi gran cuori, ma ragazzi, non possiamo pretendere tutto quanto. Guardate chi ho trovato. Mentre che tornavo a casa, convenientemente sulla strada dove c'è il ponte, ho trovato tutti questi bei cavallini che ovviamente diventeranno nostri amici. Quello figlio di puttana, diventa mio amico. Sono riuscito finalmente a trovare anche dei cavalli neri. Abbiamo un cavallo marrone, scuro, a puntini, bianchi. Quindi fondamentalmente per ora sono riuscito a prendere tutti i cavalli in doppia copia, quasi tutti. In realtà il cavallo marrone senza macchie non l'ho preso in doppia copia perché abbiamo già 200 cavalli maroni con le macchie, senza macchie, con 200 macchie. Sti cazzi di prenderne ancora un altro. Guardate quanti bei cavallini ho al mio seguito. Iiii nitrite amici miei, nitrite. Ho the paroads and the bits, vuol dire the bats, vuol dire che ho preso tutti i mob, se non sbaglio, o che li ho fiddati tutti quanti perché per cui avevo questi due stronzi pezzi di merda ho dovuto far nascere sto stronzetto. Abbiamo messo tutti quanti i cavalli al loro posto, in realtà ne ho messi due per ogni stalla, tranne che negli angoli ovviamente risultano abbastanza inutili dato che non si vedono i cavalli e tranne in questo punto qui in cui ho messo 4 cavalli perché non avevo più spazio. Quindi sono due cavalli dappertutto tranne che diciamo in fondo. Devo dire che è venuta piuttosto bene. L'unica cosa che voglio fare è magari chiudere la porta perché lasciarla così aperta, eh, non mi piace mai. Non tanto perché non sia bello vederci dentro direttamente, ma perché poi entrano gli zombie. Questa volta ho finito per davvero la nostra fantastica stalla, ma per davvero, eh. Ho messo giusto gli ultimi dettagli come ad esempio questo muretto, fondamentalmente il muretto di prima, l'ho riposizionato leggermente più avanti come potete vedere. Prima finiva in corrispondenza di questi blocchi, adesso finisce già qua. Ho messo poi qualche foglia lì sopra, ma giusto una o due perché quelle c'avevo. E cosa ho fatto ancora? Allora, sono andato alla fine a chiudere anche il portone da questo lato, perché fondamentalmente a mio parere è più bello anche da vedere. Ci stava bene anche col portone aperto, era fico. Però avevo poi paura che iniziassero ad entrare gli zombie, creeper. Metti caso che mi dimentico di chiudere quella botola e la nostra piccola zona, la nostra piccola trading hub sparisce. Prima o poi mi metterò a togliere tutti i vecchi villager e sostituirli tutti quanti con soltanto fabbri. Detto ciò, se non l'avete ancora fatto e mi metto qui dove si vede molto bene la nostra fantastica stalla nuova, ricordatevi di mettere un mi piace a commentare il video e condividerlo con tutti i vostri amici. Vi ricordo soprattutto di passare dal mio secondo canale, ragazzi, Davide che gioca, è importantissimo anche perché questo mercoledì, se non sbaglio, dovrà uscire il video sul mio setup da gaming. Me l'avete chiesto veramente tantissimi di fare un video sulla mia postazione e adesso ve lo farò uscire. Sarà un video molto interessante, quindi passate mi raccomando dal canale, iscrivetevi a tutto ciò in cui potete iscrivervi, attivate qualsiasi notifica possibile e immaginabile, pregate alla betulla e tanti saluti! Grazie per la visione!